Anfaccia a tutti ragazzi, qui Canelupo ed oggi siamo con un nuovo video Su un nuovo gioco ragazzi consigliatemi da un mio amico di classe Lo saluto Emiliano Grazie Dragons Prophet Che gioco è ragazzi è veramente un gioco cazzudissimo E' un free to play, aspettate che ha passato la busta E' un gioco veramente cazzudolente e tu sei un uomo e cavalti i draghi Cioè già con queste due parole ti piace il gioco, è una cosa assurda Ci sono quattro tipi di razze, come sempre il guardiano Il guardiano e poi non mi ricordo, io tipo so il guerriero, poi c'è sta il mago Poi c'è sta uno stronzo e poi un altro stronzo Ovviamente personaggi maschi e femmine Il gioco è in inglese però Infatti ho deciso proprio di portare questo gioco perché in pochi in Italia lo conoscono E io quando l'ho conosciuto ho detto League of Legends Non ho detto niente perché comunque nerdo sempre a League of Legends Quindi questo gioco fa per voi ragazzi Perché quando perdete 8000 ranked sapete come state Io so come sto Quindi mi metto su sto gioco e comincio a ammazzare un po' de mob de merda Detto questo ragazzi C'è stato schermo negro Questo gioco veramente bello Allora è infinito come gioco Quindi pian piano devi salire di livello, devi fare i dungeon Eh quindi non so se faccio proprio una serie O comunque faccio un video ogni Ogni Cazzo de papa Capito? Quindi vediamo subito Ah vi voglio dire anche un'altra cosa Ci sono anche delle picche news Perché Praticamente Come vedete Come potrete vedete Che sotto Al link del O gli organizzo un attimo Sotto in descrizione Cari cazzi miei Ce so il link Ce so Che cazzo ho detto Vabbè Sì comunque ci sono il link della mia pagina Facebook Quindi un bel like Non vi costa nulla A me 8000 euro 85 27 44 44 Un bel like Non vi costa nulla E E E E quello di G2Arena Ovvero un sito dove potete comprare i giochi E se voi comprare che non so un gioco Ma è ritorno dietro la barra di caricamento Mi stai a prendere per culo Mi stai a prendere per culo il gioco Mi stai a prendere per culo Era Eccolo Ragazzi cioè guardate Guardate che cosa è Attenzione Ma si è tipo bloccato Ok Ritornato il resto che è normale Infatti che sto registrando vado a 30 fps Quindi Vabbè più che giocabile comunque Con tapa si scende dal drago Questo è un drago Io rompo E' veramente un gioco bellissimo Ora i comandi non ve li dico io Perché Non ci sarebbe nessun senso Per cui Non so neanche io che sto dicendo Comunque lo gioco totalmente in inglese Quindi vi aiuterò anche a scuola Cosa non sottovalutare E potete possedere fino a due draghi Io ad esempio Se clicco P Che è cosa del pet Quindi il drago Ho due draghi Uno è questo Uno è questo Però avevo attenzione Oh ma c'era con me Clicco Porco Boom Ho troppo Troppo Boom Boom Guardate il gruppo ragazzi Boom 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 Allora Alta F2 Andiamo Oh l'aria Devo ammazzare Ashes to ashes Abbiamo una mappa grande Devo lo stanno Ma c'era un cazzo No la conquista No vabbè Dobbiamo fare i livelli Ragazzi Dobbiamo fare i livelli Quindi dobbiamo andare Che cazzo scende Alta F1 Questo è quello che vola Ah no Lo space bar voli Guardate Guardate che picchiata Regà Guardate che picchiata Ti è Ti è Ti è Ti è Scherziamo Poi Regà Fa il twerk Guardate Ok Ora il punto è un altro Non dov'è qua? E dov'è sta qua? Che dobbiamo qui là? Uno scarafaggio Bard the bodies Non mi fai ruoter culo Raffanculo Ribondoniamola questa ragazzi Andiamo avanti Per i nostri viaggi Andiamo avanti Cioè Cioè io Ma se so questo Mi incazzo No Eh Cì Mamma mia Oh affitto Affitto di terra Affitto di terra Guardate Mamma mia Guarda Poi ci sono dei draghi Ancora più enormi Ragazzi Ok Tipo questo Guarda quanto è molto bello Di solito Mi ha la 60PS Già Sto registrando Vediamo Andrà Ma quello sta a livello 13 Zumbi Zumbi di merda C'era con me C'era con me Eh Oh merda quanti so Coremo Chiamo a sto drago Corio Questa m'ammassa Per favore Ok ragazzi Qui non ci possiamo andare Quindi andiamo a extra Un po' prima Comunque è veramente un bel gioco Dragon's Prophet Poi lo scrivete Lo scarico E ci giocano veramente in pochi Per questo ho deciso di portarci un gameplay Quindi Se vi va di condividere il video Comunque metterci Un bel like Mi farebbe molto Ma molto piacere Condividerlo ovviamente di più Così divento più famoso Faccio più soldi E più visualizzazioni Ecco perché Per questo L'expa è quella sotto in blu E comunque Oh Voi avete che è il frattornato più forte? Allora Ok Il punto è un altro Ah ecco Ma io da la missione a buffo Non so perché Oh Quasi mi ammazza Ok Ma io non voglio Vedere che c'è questo Ah c'è pallini gialli Ah Cioè Sto ammazzando i miei coetani Comunque Perché cazzo ammazzo i miei coetani? Allora Ma Vediamo se vediamo altri puntini gialli sulla mappa Ah eccoli qua Avete ammazzato i miei amici Avete ammazzato i miei amici Ratti Di Mannaggia Codici Mazzatutti Uno a uno Codici Boh Boh Eheh Comunque questo gioco è veramente Bello 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 Perché comunque ci passa del tempo È tipo For story Made in 2 No? Questi giochi qua Comunque ci passate un bel po' di tempo Ed è veramente bello questo È veramente bello Perché comunque a me i draghi mi hanno sempre appassionato Quindi non so voi Poi me lo fate sapere Comunque questo video È solo comunque per farvi conoscere È solo comunque perché comunque Qua cosa comunque stanno dicendo Troppo comunque Allora andiamo a ritirare la missione Siccome non so se vi potrebbe annoiare o no Un tipo di gameplay così Non ne ho la minima idea Vorrei essere sicuro che comunque vi entusiasmi Quindi su perciò credo di farci ogni 10 minuti 10 minuti un video E poi levarlo comunque sì 10 minuti credo che bastino Comunque sì 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 Quindi 10 minuti di video Poi Lo levo Cioè non lo levo Ogni 10 minuti Qualco del dinci Un episodio dura 10 minuti Ecco questo intendevo Credo che sia un'ottima No io Allora Fatelo dal culo Ecco il qua Dove mi sono i fatti Niente A big expert ragazzi Ora facciamo il 9 Bam È livello 9 ragazzi Una nuova skill You have learned active skill Crescent wave Con le skill si vedono con un K E come adesso in tutti gli altri giochi Ok Se sto sopra il drago Non la posso mettere Ovviamente Ma che cazzo Chi è il drago Mamma via Allora Sotto Fate sempre le missioni Perché vi danno tanta expert ragazzi Tanta tanta Quella expert Che neanche Ve potete Da immaginare Comunque Se farò questa serie La farò uscire ogni Sabato Come è Come è oggi Ogni domenica Non so quando uscirà questo video Se domenica o sabato O domenica Lunedì Martedì Ottobre Novembre Capito Mi aiuta pure in inglese Quindi Spada Find mamma Masha È già l'ha finita Se c'è per culo Apurian Asilient Apurian Ok Abbiamo il drago Andiamo E chi è qua Eccolo lì qua Boh Boh Mostra segreta Allora vediamo Che ho troppato Ok Perché il drago De questo lo aiuta A me il drago Non mi aiuta Guarda questo Ce l'ho scudo Vediamo la nuova skill E Oh my god 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 Tipo un Keizan Guarda vai a trovare Ah ecco Eccolo qua Allora Chi comanda Eh Pantella Per cazzo Chi comanda E uno E uno E uno Questo Sopro Quando è così Ma io corre E puzza Guardate le skillataria Mamma mia Le skillataria Di questo champion Di questo champion Sì vabbè Di questo personaggio Ok finiamo la missione E poi dico Direi pure che il video Potrebbe finire qui Perché comunque È solo una Una prima parte Quindi poi mi dite Se continuarla O meno Ora non trovo più il lupo Perché ho detto Che finisco il video Guardate voi Non trovo più il lupo Vi scommetto Quello che devo fare Tranne i coglioni Perché ho perso L'ultima volta Con slati Che avevo detto Che la partita Avremmo vinta Ma ce l'abbiamo persa Ho detto Io ho detto Mi giuro Che se perdo sta partita Ne 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 La lasciamo stare Allora Dove stanno Vieni drago Andiamo alla ricerca Di questi Apurian Ah eccolo qua L'ho trovato eh L'ho trovato eh Ma io Ma io Ma fate male Porco Dici Ma che ma Chiorco Basta Ok finito la missione Non frega un cazzo Per drop Lo sta Volamo Volamo Con due volte Doppio vuole Minecraft Guardate che C'è C'è Stupendo Ok Ok ragazzi Io potrei dire che il video di oggi Potrebbe finire qua Se vi è piaciuto ragazzi Un bel like Se vi fa condividetelo Comunque mi fa molto piacere Un bel commento Ditemi cosa pensate di questo gioco Ditemi ogni quanto lo devo fare E Anfascia a tutti ragazzi Ora avete sentito tipo rumore Perché mi sono abbinato al microfono E ho strillato Anfascia a tutti ragazzi Da canelupo Grazie mille